Grazie Maria. Grazie a voi. Livia Turco non l'ho detto prima perché sono una pessima organizzatrice, io invece, e non detto che è l'autrice di una bella prefazione, ma ne parleremo tra un poco. Adesso è il momento di Pietro Spataro. Naturalmente non faccio la difesa d'ufficio di Mieli che non è presente qui, che però ha scritto un suo test teatrale sul PC che, tu non ci crederai Maria, ma conteneva persino dell'affetto. Non ci crederai? Pietro Spataro, ci sei? Tu sei stato subito interrogato, diciamo, una di quelle domande abbastanza complicate da Gabriella Nistico, decidi tu come rispondere perché immagino che è una storia che è ancora non conclusa come quella dell'Unità, non so bene cosa sia dell'archivio, ma a te volevo anche chiederti di questa bella testimonianza che tu raccogli, che è quella di un tuo collega sostanzialmente, Carlo Ricchini, e un anziano collega naturalmente, bellissima la chiusura quando Carlo, tu dici, tu scrivi, mi saluta dalla porta di casa con un sorriso e la sua magnifica ossessione. Dai Pietro, proviamoci. Ho anche il nome del nuovo giornale, lo chiameremo Eccoci. E Pietro si chiede in questo tuo racconto, ma si può fare un partito senza fare un giornale? E domandola che io non oso neanche rivolgerti, volevo solo segnalare a chi ci sta ascoltando che questa domanda c'è effettivamente. Pietro, ci sei? Non ti vedo. Eccomi. Eccomi. Allora, vabbè, prima di dire alcune cose brevissime sulla questione dell'archivio, io volevo tanto ringraziarti per le bellissime parole commoventi che hai detto sul libro e volevo anche, perché insomma queste presentazioni dovrebbero servire a questo, informare chi ci sta ascoltando come si fa ad avere il libro. Basta andare sul sito di Striscia Rossa, www.strisciarossa.it e in alto, accanto alla testata, c'è un link seguendo il quale si può scorrere l'elenco delle librerie o delle edicole in Italia che vendono il libro oppure ordinarlo direttamente online che viene spedito a casa. Detto questo, per quanto riguarda la questione dell'archivio io non ne so molto perché purtroppo la vicenda dell'archivio è la stessa brutta vicenda che ha coinvolto l'Unità, per cui io so che un gruppo di ragazzi sconosciuti, non so chi siano, è riuscito a, come si dice in gergo, a craccare l'archivio dell'Unità, per cui l'archivio dell'Unità è visibile online in maniera un po' lagunosa, per cui la ricerca non funziona bene, mancano alcune pagine, però fondamentalmente funziona, per fortuna, grazie a questi ragazzi che sono riusciti, non capisco nulla di tecnologie, quindi non so come abbiano fatto, ma per fortuna ci sono riuscite, perché altrimenti con la chiusura dell'Unità l'archivio che fine ha fatto non lo so. So che se ne era occupato anche in parte la fondazione Gramsci, con la quale noi avevamo parlato, ci ho parlato io con Giasi e quindi alcune cose ce le hanno anche loro. È tutta una cosa che sicuramente è andata perduta. Ora, per quanto riguarda invece il libro, a me, devo dire la verità, mi ha aperto il cuore la testimonianza di Maria, perché mi ha fatto rivivere cose che abbiamo vissuto un po' tutti noi. come diceva Daniela all'inizio, noi che abbiamo scritto questo libro siamo in qualche modo anche protagonisti, perché ciascuno di noi, tranne Guido Sannino, il giovane Sannino, che ha 24 anni e quando è stato sciolto il PC non era nemmeno nato, tutti noi abbiamo frequentato le sezioni del PC e quindi quel ricordo carico di passione di Maria mi ha emozionato perché è la stessa esperienza che ho avuto io. E questo però ci dice, secondo me, su questo libro una cosa importante che è quello che poi scrive Lira nella prepazione, che questo non è un libro nostalgico, anche se io, devo dire la verità, non ho nulla in contrario nei confronti della nostalgia, anzi, insomma, io ogni tanto mi culo nella nostalgia, sia nel privato che nel che nel pubblico, diciamo così. Anzi, credo che la nostalgia sia utile se è usata per capire come eravamo, come siamo diventati e che cosa possiamo correggere oggi. Quindi questo libro non è per nulla nostalgico, non ha voluto per niente fare il santino del PC perché anche il PC ha commesso un sacco di errori e ogni storia, ogni storia racconta questi errori. Anche la storia del movimento femminista, i ritardi del PC, il PC sostanzialmente è stato, non sempre, ma insomma è stato per lunghi dratti un partito, un partito maschilista. L'operazione che abbiamo voluto fare noi era di raccontare appunto queste tredici storie dei compagni e compagni per raccontare la storia del PC da un altro punto di vista. Per raccontare quello che Fruvi Abbandoni e Franca Chiaromonte nel loro bellissimo libro sulle parole, sulle parole del PC, chiamano appunto il corpo del PC, il corpo del partito, che era una formula, se vi ricordate, si usava allora, no? Bisogna ascoltare il corpo del partito, bisogna andare nel corpo del partito, eccetera, eccetera. E il corpo del partito appunto era questa fondamentale ossatura di un partito che non era fatto solo da gruppi dirigenti a livello centrale, quindi non solo da botte con scure, ma era fatto da questa ramificazione di passioni, di idee, di battaglie, di intelligenza che costituivano, come dire, un intellettuale collettivo, possiamo dire citando Gramsci. Ma l'obiettivo di questo libro secondo me è che dobbiamo leggerlo guardando ad oggi, perché secondo me questo libro nelle storie che racconta ci dà alcune indicazioni per l'oggi. Diciamo alcune indicazioni nei confronti di una sinistra che come vediamo ogni giorno annaspa, sta in difficoltà, sembra che si riprende, poi crolla, quindi non lo so, questa nuova avventura di Letta, quanto durerà, se durerà e dove porterà, lo vedremo, perché anche quella di Zingaretti aveva creato notevoli entusiasmi e poi abbiamo visto come è scelita. Ora, le cose che secondo me sono fondamentali, raccontate nel libro per oggi appunto, e in questo senso non è un libro nostalgico, da questo libro emergono alcuni elementi fondamentali che sono, uno, l'ho ricordato bene Maria, ma anche Gabriella, è lo spirito di comunità, cioè il sentirsi parte di una comunità, che in quel partito era fortissimo, uno quando entrava in sezione. Adesso, io quando vedo le lite, gli scontri, le divisioni di oggi, io sinceramente mi trovo un po' a disagio, perché sarà perché non c'era, c'era, come dire, una passione disinteressata. Nessuno, forse nessuno esagerato, ma pochi andavano in sezione, come invece succede oggi, perché magari avevano l'interesse di essere candidato alla circoscrizione al municipio per poi fare chissà cosa. C'era una passione disinteressata che creava rapporti d'amicizia. Nelle sezioni sono nate grandissime amicizie e sono nate anche tantissime storie d'amore. Per cui in questo libro ogni storia viene raccontata al plurale, non c'è nessuno. Poi Maria l'ha fatto in maniera un po' più decisa, perché ha detto non sono io la storia della sezione Gramsci. La storia della sezione Gramsci siamo noi e siamo in tanti, ma anche gli altri che hanno raccontato in prima persona hanno raccontato un noi, hanno raccontato una comunità, hanno raccontato una comunità che aveva passione, intelligenza, voglia di fare, voglia di battersi. Quindi questo è fondamentale. Ma può esistere, secondo voi, un partito senza una comunità? No. E lo vediamo. Il PD, che ha una comunità, per fortuna, abbastanza lacerata, abbastanza in difficoltà, vive una stagione di difficoltà perché la comunità è fragile, la comunità è debole. Secondo punto, questo spirito di comunità creava allora uno spirito di appartenenza che non c'è più oggi. Cioè allora si apparteneva a un'idea, a una passione, non è che si apparteneva a un partito, eravamo comunisti, eravamo tutti comunisti, ma si apparteneva a un'idea, a una passione, a una voglia di battersi, a una voglia di cambiare le cose e questo ci teneva uniti. Anche questo, c'è oggi questa appartenenza. Io non la vedo perché quando vedo tutti questi cambi di casacca o scissioni o cose capisco che il senso di appartenenza è abbastanza fragile, che forse è più dettato da interessi personali che non da interessi generali. Terzo punto, e l'esperienza della sezione Gramsci secondo me lo racconta bene, era la presenza nei territori, la presenza nei quartieri, la presenza nelle borgate. Oggi sento spesso dire del PD che bisogna finirla di essere un partito della ZDL, ma bisogna tornare in periferia. Io quando sento questa frase, una volta ci ho anche discusso con Lucia Annunziata, un po' mi arrabbio, perché non è che bisogna tornare o andare nelle periferie, non so, a scoprire gli indiani e le riserve indiani. Nelle periferie bisogna starci, cioè il PC era un partito forte perché nei quartieri, nelle borgate, nelle periferie c'era. Non a caso allora, se andiamo a 50 anni fa, negli anni 70, il PC non era assolutamente un partito della ZDL perché nel centro storico prendeva pochissimi voti e il grosso, ma il grosso oltre il 50%, lo prendeva nei quartieri popolari. L'ultima cosa è quella che riguarda la cultura. La cultura è stato un elemento fondamentale in questo partito, ma non solo a livelli alti, a qualunque livello. Cioè la cultura permeava ogni comportamento, mi ricordo che nelle sezioni si studiava, quando si facevano le riunioni si studiava, non è che si faceva la riunione e ci scappava come come succede oggi, il tweet o il post così e butti là e lo dici. E facevi a riunione del direttivo su un comitato centrale, che era un classico, no? A riunione del direttivo su le conclusioni del comitato centrale. E uno è il comitato centrale, se lo studiava, si studiava tutti gli interventi, la relazione del segretario, i vari interventi, eccetera. Non solo, ma in ogni libreria, in ogni sezione, io me lo ricordo, c'era l'angolo dei libri, c'era l'angolo dei libri e si studiava, si leggeva. Oggi è tutto più fluido, veloce, ma vedo anche che pochi studiano. Qui, e concludo, arriviamo al tema del racconto di Ricchini. La storia di Ricchini è una storia straordinaria, che secondo me racconta benissimo la grandezza di quel partito. Cioè Ricchini era un ragazzo che alla fine della guerra, subito dopo la guerra di liberazione, era praticamente uno spiantato. Viveva alla Spezia, era finito, come racconta lui, in un giro anche abbastanza losco, con personaggi poco raccomandabili, e viene, lo dice lui, tra virgolette, salvato dal partito. Perché conosce il partito, comincia a frequentare la sezione, riprende a studiare perché ha abbandonato gli studi e da lì comincia tutto il percorso di Carlo Ricchini, che lo porta ad essere cosa straordinaria, che forse oggi non succederebbe, lo porta ad essere il redattore capo del giornale del Partito Comunista Italiano, cioè dell'Unità, negli anni 70-80, ed essere il redattore capo dell'Unità negli anni 70-80, ve lo assicuro, voleva dire essere una persona forte, autorevole, insomma, una persona di grande sostanza, il redattore capo dell'Unità all'epoca parlava col segretario del partito, quindi con Berlinguer. Questa storia è bellissima, ma è bellissima anche questa, perché a me sorprende, perché lui ci mette più passione di quanta ce ne metto io, ce ne posso mettere io. Cioè l'ostinazione di Carlo Ricchini, che ha compiuto l'anno scorso 90 anni, per il fatto che bisogna fare un giornale, a me mi commuove, perché è una persona di 90 anni, che potrebbe comunque sia riflettere sulla propria vita, eccetera, eccetera, invece ha questa grande passione, perché giustamente lui ritiene, e mi pare un'ovvietà, che è un partito, senza avere non un giornale di partito, perché nemmeno un giornale di partito, almeno dagli anni 70 in poi, ma avere un giornale che in qualche modo è un giornale di riferimento, che possa aiutare, che possa tenere insieme i pensieri, le riflessioni, le idee, eccetera, anche quelle diverse, anche quelle contrastanti, secondo me è assurdo che non ci sia un giornale così. A posto io dico la magnifica ossessione. Ricchini è talmente ossessionato, tra virgolette, da quest'idea, che appunto nel libro racconta che appena ha letto segretario Zingaretti, ha scritto una lettera a Zingaretti per dirgli ma perché non facciamo un giornale? Zingaretti ha sorvolato, diciamo così, e ha fatto una risposta molto formale, ma la cosa straordinaria è che qualche giorno fa mi ha detto che ha già mandato una lettera a Letta sullo stesso argomento, perché bisogna fare un giornale? Ecco, allora adesso per concludere, tutto questo che significa? Significa che in quel partito c'era vita, c'era vita, c'era vita, c'era bella vita, c'era bella gente, c'erano idee, c'erano passioni e tutto questo secondo me nessuno vuole rifare il PC, anche se insomma se ci riuscissimo non sarebbe male, no dico scherzavo, nessuno vuole rifare il PC perché comunque è passato del tempo, le cose sono cambiate eccetera eccetera, però appunto io penso che prendendo quel buono che c'era in quel partito, le cose che ho detto prima, secondo me queste possono essere utili anche alla rifondazione, alla ricostruzione di una sinistra che spero presto sia molto diversa da quella che abbiamo di fronte oggi. Grazie a tutti.